e così è stato poi certo senta qui ho le recensioni della stampa internazionale ai suoi diari molti storici ci credono non tutti l'attaccano Dennis Mark Smith eccetera cioè non tutti l'hanno messa in discussione la sua creatività e lei non demorde non ha paura di diventare impopolare lei dell'ultimo no non ho paura nessuna infatti nessuna tanto non sono mica popolare perché devo diventare impopolare beh è sempre un politico deve pigliare voi ma gli se ne frega scusi non me ne frega niente io vado per la ricerca della verità della storia e per la ricerca della verità sono disposto a fare tutto è vero che Churchill lo ammirava? questo no Mussolini ammirava Churchill questo c'è scritto c'è scritto a un certo punto parla di Franco del quale non lo stimava non lo stimava questo lo dicono anche la la storiografia ufficiale quindi coincide lui dice Churchill aveva ragione perché accusava Franco di non essere popolare amato dal popolo giusto? no lui dice che accusava Franco che non era grato era un ingrato ok e diceva Churchill tra parentesi grand'uomo me lo aveva detto quindi che Franco non sarà mai grato di quello che abbiamo fatto senta parlando con Alessandra Mussolini intervistandola mi ha detto anche sulla persecuzione poi guardiamo anche i dati storici credo che gli omosessuali persecutati da Mussolini siano stati tra virgolette forse 50 ma forse non erano in quanto omosessuali cioè rispetto alla Germania dove la persecuzione omosessuale ha raggiunto tipo non si sa si oscilla tra 10-50 mila cioè praticamente inconsistente la Mussolini mi ha detto guarda non era omofobo assolutamente ci sono delle prove che faceva chiaramente dell'ironia perché non corrispondeva all'immagine ma si fa anche oggi benevole però non era la famiglia Mussolini non era la storia dell'omofobia non c'era a lei risulta? no non mi risulta nel senso che non ho mai trovato nessun accenno a questo tema però non li perseguitava di fatto pochissimo cioè i confinati quant'erano? poche centinaia risulta non lo so non lo sa su questo tema andiamo avanti la mafia Mussolini è riuscito a combattere la mafia mettendo il leggendario prefetto Mori che io anche storici non diciamo storici ufficiali dicono riuscì a combatterla e a dominarla tant'è che Mori divenne talmente popolare che Mussolini cominciò a essere anche un po' geloso e lo tolse dalla Sicilia allora prima domanda Mori è riuscito veramente è riuscito ha avuto successo contro la mafia come ha fatto? seconda domanda Mussolini che visione aveva della mafia ovviamente la odiava perché era l'antistato e lui era per uno stato forte è corretto quello che sto dicendo? questa seconda cosa è correttissima ma lo dice anche nei diari lui è contro ogni forma di diciamo di aggregazione che non fa parte dello stato per esempio parla malissimo della massoneria ma in maniera veramente violenta e quindi la mafia in fondo è una massoneria diciamo delinquente quindi anche questo era contro queste forme così di aggregazione antistatale o comunque non statale e le combatteva le combatteva questo Mori ha funzionato perché secondo lei? ma secondo me Mori ha funzionato perché ha usato la forza e poi non era un iper garantista con i mafiosi cioè non lo so risulta cioè ha usato la forza diciamo erano determinati si si ha usato la forza ma proprio fisicamente stanavano i mafiosi o ritenuti tali dalle case li buttavano in una cella e buonanotte quindi non è che c'era tanto da discutere processi non processi è una cosa sommaria quindi Mori ha debellato la mafia conferma quindi sicuramente è stato un fatto sicuro l'ha debellata non l'ha diciamo così annullata tant'è vero che dopo la guerra la mafia si è riproposta più organizzata di prima certo quindi da questo punto di vista ha usato lo Stato dopo la guerra avrebbe dovuto usare i metodi Mori forse per fare un lavoro definitivo senta oggi i giovani che lezioni possono trarre dai suoi diari intanto se pensa a una pubblicazione magari più mirata dai giovani è una cosa più soft per loro e comunque visto che il nostro pubblico è giovane che immagini possono trarre da Mussolini perché il problema lei con noi l'ha già affrontato più volte però anche voi non l'ha affrontato come il PDL il problema è anche la fonte storica a scuola si ha una visione unilaterale è d'accordo lei che contributo può dare io non ho nessuna intenzione di fare apologia né del fascismo né di Mussolini quindi partiamo da questa io dico ho scoperto questi diari da cui viene fuori la figura di un grande uomo poi gli errori li ha fatti era condannato già dalla storia non mi interessa viene fuori una figura diversa da quella che ci hanno propinato gli storici dei vincitori perché non era un buffone come tutti non era un ignorante non era un sanguinario era tutto diverso era un uomo un buon uomo era una brava persona che ha fatto degli errori nel privato com'era? nel privato era molto era così tutto d'un pezzo? no 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 lui racconta spesso di incontri familiari e anche descrive certe atmosfere familiari quando stava in casa con i figli giocava con loro con il trenino guardava il cinema dice a un certo punto quando tutti pensano che il lume è acceso a Palazzo Venezia che il duce tutta la notte sta sveglio per risolvere i problemi del governo lui scrive lui ma non è vero niente il duce di notte dorme e non si scervella come dicono qui tutti i miei affissionati anzi dirò di più alla sera cerco sempre di arrivare puntuale al rito del desinare con i congiunti dopo ceda o leggo o mi ricreo con i figlioli i trenini le carte e i film questo è la notte Grazie a tutti.